Quali sono i sintomi più comuni di un'infezione da baby greca e? I bambini possono avere gli stessi tipi di infezioni oculari che gli adulti e i bambini sono inclini a mostrare spesso sintomi simili. Alcuni dei più comuni segni di un'infezione oculare nei neonati includono palpebre gonfie, arrossamento intorno agli occhi, eccesso di produzione lacrimale e scarico. Naturalmente, pignoleria e pianto possono segnalare il dolore agli occhi se non sembra esserci altra ragione per questo tipo di comportamento. Mentre questi sono i sintomi più frequentemente osservati con infezioni dell'occhio comune come la congiuntivite, ci sono altri problemi agli occhi che sono più rari, con conseguenti sintomi che comprendono piccoli urti e perdita delle ciglia. Una delle cause più comuni di infezione dell'occhio del bambino è la congiuntivite. La forma virale di solito causa lacrimazione, palpebre gonfie e arrossamento del bianco degli occhi. Di solito c'è anche una scarica chiara e sintomi di raffreddore, come il naso che cola e la congestione. D'altra parte, la congiuntivite batterica di solito causa una scarica gialla, occhi croccanti che possono essere bloccati, palpebre gonfie e occhi rossi acquosi. C'è anche una forma allergica di questa condizione, che causa prurito, lacrime eccessive, gonfiore agli occhi e sintomi allergici che possono includere starnuti, una gola irritata e un prurito al naso. Ci sono alcune condizioni per gli occhi che i bambini possono ottenere e che molte persone non hanno mai sentito nominare. Ad esempio, la blefarite può causare la perdita di ciglia, palpebre croccanti, prurito agli occhi, lacrime eccessive e ciglia che crescono nella direzione opposta. Questa condizione è causata dalla produzione di olio in eccesso dalle ghiandole che si trovano vicino alle palpebre, causando la crescita eccessiva dei batteri. Alcuni bambini soffrono anche di un dotto lacrima leostruito, che di solito è presente dalla nascita se si presenta. I sintomi di questa infezione dell'occhio e del bambino di solito includono lacrimazione eccessiva, arrossamento vicino agli occhi e al naso e muco giallo negli occhi. Un altro tipo di infezione dell'occhio e del bambino è caratterizzato da un piccolo dosso in un occhio, chiamato un porcile, che è una ghiandola che si infiamma. Di solito appare come un brufolo rosso sul bordo della palpebre, facendo sì che l'occhio si strappi e diventi sia tenero che sensibile alla luce. Questa infezione dell'occhio e del bambino può comportare pignoleria dal bambino in quanto provoca qualche disagio, compresa la sensazione che ci sia sabbia negli occhi. Un porcile può infine diventare un calazio, che è solo una protuberanza più grande che si forma in risposta a una ghiandola ostruita. I sintomi di questo tipo di infezione dell'occhio e del bambino sono in genere gli stessi di un porcile, ma quando non trattati, possono crescere abbastanza grandi da bloccare la visione.